Voilà, ieri 4 marzo 19 persici, adesso incominciamo a pulire le filettarie. Paschetto. Cominciamo dalla testa qua. 1 e 2 andiamo via questo qui è ancora le vesche della pancia ora facciamo il filetto e ora il primo filettino è fatto. Grazie. 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 Una volta. Un filetto è fatto. Andiamo avanti, taglio un glippo fino ai piedi metrali, vedo che si sfrutta la punta. Vedo, 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 vedo. Vedo, vedo. Vedo, vedo, vedo. 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 Grazie a tutti. E anche questi li ho presi con i forcenti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.